E' tornato operativo il Covid Hotel sul lungomare di Marzocca a Senigallia, già attivato la scorsa primavera durante la prima ondata della pandemia. La struttura alberghiera accoglierà i positivi che non hanno più bisogno di curo ospedaliere e persone che non hanno a casa spazi adeguati in cui osservare la quarantena. Accreditate dalla regione 45 camere, mentre l'accesso sarà disciplinato dall'Asur, cibo e beni di prima necessità saranno lasciati fuori dalle stanze per evitare il contatto diretto con i contagiati. Oltre all'hotel Atlantic, in cui l'assessore regionale Stefano Guzzi oggi ha effettuato un sopralluogo, è già stato attivato anche un Covid Hotel nella provincia di Macerata per un totale di 104 posti letto. Ieri sera ho assistito al richiamo che il commissario straordinario per il Covid Arcuri ha fatto sui TG nazionali, invitando le regioni a mettere a disposizione un Covid Hotel per ogni provincia. Mi fa molto piacere pensare che nella regione Marche, su iniziativa proprio del mio assessorato alla protezione civile in accordo con l'Asur, sono già dieci giorni che abbiamo portato avanti questa iniziativa, individuando dieci strutture idonee in tutta la regione Marche e avendone già attivate due, uno all'Atlantic Hotel di Senigallia e uno al Recina Hotel di Monte Cassiano. A Monte Cassiano, nel Macerateso, sono già entrati già 15 ospiti da due giorni. A Senigallia inizieranno ad entrare dell'unidio della prossima settimana, quindi siamo indubbiamente una regione molto all'avanguardia sotto questo punto di vista e mi fa piacere appunto essere stato, se mi permettete, anche protagonista di questo percorso perché oggi viene convalidato, se vogliamo, anche dai vertici nazionali. I Covid Hotel, spiega Guzzi, andranno sia ad alleggerire la pressione sugli ospedali, sia a liberare i posti letto per i pazienti più gravi. Il personale è stato formato e quindi fornirà i pasti a chi è che è in quarantena nelle singole stanze, mentre le USCA, le unità territoriali della sanità con infermiere medico, le visiteranno periodicamente per vedere anche lo stato di salute e l'adegenza, diciamo così, di tutti quanti gli ospiti. Quindi ci sono particolari attenzioni, il personale ad esempio è stato anche formato proprio appositamente per questo tipo di attività. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie.